Ciao cinefusi.it, parliamo oggi di Sonic, diretto da Jeff Fowler, ispirata al videogioco della SEGA Bellissimo questo suono, mi piace da morire Che sta incassando circa 111 milioni di dollari in tutto il mondo, sta ricevendo anche buone critiche Questo film è diretto da Jeff Fowler Devo dire ha fatto un buon lavoro dai primi piani della tartaruga Mentre va spasso con Sonic, velocissimo, è bellissimo Anche le panoramiche velocissime quando si muove i Sonic Comunque fa un lavoro giusto e non spora mai E devo dire che anche a me personalmente di fatti questo film è piaciuto Dico anche a me perché anche la critica non ne sta parlando così male Di che cosa parla però questo film? Parla proprio in parole povere di questa creatura aliena che arriva sulla terra Questa creatura ha il dono di essere super veloce, di utilizzare poteri cinetici, elettromagnetici E incontrerà questo detective Tom Wachowski Interpretato da James Marston, per chi non se lo ricordasse il vecchio ciclope dei primi X-Men Con cui instaurerà un rapporto d'amicizia Avranno qualche problema e difatti la prima volta che si incontrano Sonic causerà un blackout E il governo quindi deciderà di incaricare Ivor Botnik Interpretato da Jim Carrey che è il villain del film Per capire di che cosa si tratti E Robotnik però ha il secondo fine comunque di volerlo uccidere questa creatura E bene o male questa è la trama Diciamo che a livello di trama non è un film che eccelle da quel punto di vista Perché comunque non è curata al massimo Però devo essere sincero che comunque ha il grande dono Che quando un film del genere presenta un protagonista così pimpante Un po' fuori le righe ma dal punto di vista positivo Nel senso che comunque sempre scherzoso, parla, chiacchiera Quando magari non è di scena quel personaggio In questo caso Creatura ma comunque è Sonic Parliamo di Sonic Il film può calare di ritmo Ma non è questo il caso Perché comunque quando Sonic non è in scena Ci sta in scena Robotnik, Jim Carrey Che riesce a tenere sul film da solo anche A parte il fatto che come cattivo è scritto bene Perché comunque è minaccioso Però ha anche le sue fragilità E ti parla anche un pochino del passato che ha avuto Robotnik Che veniva bulizzato quando era piccolo E poi però riesce anche a essere interpretato molto bene Richiamo un pochino le interpretazioni di Jim Carrey Di Isventura, di The Mask Di Rompiscatole Comunque Jim Carrey sa sempre come farsi trovare pronto Difatti come ho detto è insieme a Tom Hanks il mio attore preferito E comunque gli vogliamo tutti bene alla fine Cioè è troppo simpatico E riesce bene o male insieme a Sonic Questo film a tenere su un film che comunque è fatto bene Al di là, come ho detto, di una trama non curatissima Però è un film che raggiunge il suo intento E anche magari chi è appassionato al videogioco Comunque non rimarrà deluso secondo me Perché ci sono dei vecchi richiami a livello di poteri Di mosse E poi come ho detto rimanete anche durante i titoli di coda Non smetterò mai di dirlo E poi un film che comunque si cita anche cinema Nel senso che si cita Leslie Nielsen C'è una parte che mi ha fatto ridere Che ci sta Sonic e si mette al volante Lì c'è una cosa del genere Tipo sono come Vin Diesel La famiglia è la cosa più importante, Dom Riferendosi a Fast Empurius Mi ha fatto morire Perché comunque Fast Empurius sono anni e anni Che comunque va avanti a parlare di famiglia Su famiglia, famiglia La famiglia è la cosa più importante Quindi mi ha fatto ridere quella parte E come ho detto prima È stato anche diretto bene Dal primo piano di Tartaruga Le panoramiche Quando Sonic va veloce Fa un lavoro giusto E fortunatamente non cala neanche mai di ritmo E ricordiamo che questo film ha avuto anche diversi problemi di produzione Nel senso che comunque È un progetto che va avanti da circa sette anni Che prima di Poco tempo fa anche Insomma, po' di tempo fa anzi Onestamente Ci sono stati diversi problemi anche dal punto di vista del design di Sonic Che comunque non andava bene a molto Infatti l'hanno rifatto E devo dire che fortunatamente L'hanno migliorato Perché prima non si poteva guardare Secondo me E Ricordiamo che è poi la voce americana di Sonic e di Ben Schwartz Io però il film l'ho visto doppiato E devo dire che però è un film che funziona Ci sono anche dibattiti familiari Non si capisce molto bene il perché Anche lì Nel senso che comunque La moglie Del detective Tovachowski Ha una sorella che non va d'accordo col detective Non capiamo bene il perché però Quando ci sono i battibecchi Diciamo tre e due Comunque sono comunque divertenti E come ho detto infatti È un film che non ha un Diciamo che non è curato al 100% A livello narrativo A livello di trama Però Ti intrattiene Ti diverte Uno spasso E Non ha tutti questi grandi difetti Che te lo peggiorano particolarmente Quindi per me Questo Sonic Onestamente è un sì A me è piaciuto Sono contento anche E soprattutto per Jim Carrey Perché insomma Secondo me È un attore che Può dare ancora tanto Nel nostro cinema Insomma Sono contento che comunque Abbia fatto questo film E ha fatto anche un grande lavoro Qui è tutto Grazie a tutti Ciao cinefusi.it Ciao amici